Finora in tema di recovery plan, le proposte avanzate dalla Giunta regionale sono carenti di tre requisiti fondamentali. Innovazione, coordinamento strategico con la programmazione 2021-2027, concertazioni con le parti sociali. Questo il giudizio del Partito Democratico che avanzerà una sua proposta che ponga rimedio a tali mancanze e chiede alla Giunta regionale di aprirsi al confronto con le forze sociali e con l'opposizione nell'interesse dell'Abruzzo. Il piano nazionale per la ripresa e la resilienza rappresenta una straordinaria opportunità, dicono ancora gli esponenti del Partito Democratico, per costruire l'Abruzzo del futuro affrontando le tre grandi transizioni dei prossimi decenni ecologica, tecnologica e demografica. Concentrarci su digitalizzazione, sostenibilità, nuove generazioni, parità di genere, con i grandi progetti che riguardano l'Abruzzo a partire da quelli infrastrutturali, materiali e immateriali, quindi il cablaggio della nostra regione, l'investimento sul ferro, la trasversalità e naturalmente il corridoio adriatico. Noi oggi ci troviamo a dover proporre un pacchetto di progetti che riguardano la nostra regione per il recovery nazionale perché invece l'ente regione ha presentato solo un elenco della spesa, non ha interloquito né con le forze sociali né con gli amministratori locali né con le forze politiche, quindi noi siamo parte diligente per dire al governo nazionale che l'Abruzzo non può perdere questo treno. Abbiamo un territorio che ha sia una vocazione manifatturiera e una vocazione industriale, ha sia una vocazione ambientale perché siamo la regione dei parchi, ma che in qualche modo sconta la mancanza di una rete che metta insieme tutte queste risorse. Ecco il recovery plan ci deve aiutare a colmare questo gap. A quel punto noi saremo una delle regioni più competitive d'Italia e d'Europa. Intanto la nostra critica è dura perché hanno presentato progetti per 10 miliardi di euro e davvero nessuno se ne è accorto perché non esiste una priorità in quello svuotamento di cassetti. Hanno lasciato la struttura, la tecnostruttura, lavorare senza alcun tipo di indirizzo politico. Neanche i gruppi di maggioranza sono riusciti a comunicare una sola idea pur linkando, trasmettendo 10 miliardi di euro di progetti. Noi facciamo il contrario. Vogliamo essere opposizione costruttiva, diamo delle indicazioni importanti dalla trasversalità, le grandi infrastrutture, la digitalizzazione, la telemedicina, la medicina del territorio, alle questioni legate al sisma, alla carta di Pescara, cioè 5-6 asset o assi in cui poter lavorare per mettere in campo concertando le azioni ben precise per rilanciare la nostra regione, sapendo bene che queste risorse sono risorse che prendiamo a prestito anche rispetto al futuro dei nostri figli. Occorre un grande e nuovo patto generazionale per investire, per rilanciare l'economia e investire sul futuro.